E' il terzo che bevo oggi, una giornata di quelle, ieri sera, sono un po' tardi. Ma allora qua, ma non mi sembra modo qua, ma che ora che sono? Ma credete che vi paghi qualcosa qua, andate subito a lavorare, ma guarda questa gente che perde tempo a bere il caffè, forza, via! Ecco, adesso è tutto per me. Don Paolo, la macchinetta è libera, se vuoi ti offro un caffè. Grazie, grazie.